Il primo chiede, che si sente che il suono si espande, che il suono si cresce, che vive. Portare ancora di più questa necrusa per fare il secondo ancora un po' di più. Il primo chiede, che si sente che il suono, che si sente che il suono, che si sente che il suono. Il primo chiede, che si sente che il suono, che si sente che il suono, che si sente che il suono. Il primo chiede sempre tutto ciò che vuole, senza mai elevare la voce, senza mai… C'è un'autorità naturale che funziona alla gentillesse. Il primo chiede, non è male. Ma c'è molti ritmi, molti ritmi diversi, molti mani diversi. C'è effettivamente qualcuno che radia un calma e una paia, che sono molto rari in questo mondo. D'autant plus che bisogna sempre fare le cose molto velocemente, lui anche. Là, c'è molti consegni, c'è molti cose a ripetere inoltre. C'è effettivamente qualcuno che arriva a mantenere un'ora di calma e di paia autour di lui, che è molto beneficio. «Volita della parte della pazienza» «Volita della pazienza» «Volita della pazienza» Grazie a tutti